ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono black knight e oggi siamo qui in un nuovo episodio di clash royale allora qui siamo in un francesco opening io provo a rifare ancora il trucco voglio maggio lo sappiamo già che non funziona però ci troviamo furia buona buona d'argento altro volo d'argento modo della corona e dovevano l'argento l'ultimo dovrebbe essere una legge in aria oa come posso vedere non allora andiamo su stazio royale cui dice che il prossimo sarà il volo d'argento e dopo ci sarà vuole d'oro vediamo se è vero ancora una volta verifichiamo flash adesso ci dovrebbe essere un volo d'argento ok la via comu ok sera scarica ok di nuovo tutta questa gente ok quando mi senti no l'orda no l'orda ragazzi no questo no torre no io no 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 l'orda di scheletri scarica voilà c'è un vantaggio adesso l'orda di scheletri quindi come si difenderà dai miei scelti scopriamolo come ho fatto? allo specchio ok ragazzi no no non se lo fare non ce l'ho fatta ragazzi 11 di vita ragazzi ci siamo salvati con 11 di vita paolo d'oro di già vediamo una roba ragazzi aggiorna aggiorna vattels allora ragazzi adesso ci dovrebbe essere ragazzi non ho capito niente allora c'è stato il ruolo d'oro prima del previsto allora altra battaglia ok andiamo a riscelti dobbiamo la scarica tanto scarica voilà ragazzi oh cavolo nooo nooo eh ma io ho perso la torre ragazzi è fatta siamo in un grandissimo svantaggio e mi ho perso e ragazzi noi so si chiedersene il coso il cuccio di drago questo si chiama MNP e yai 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 e angemira una pazza e e ma a a a a a a siamo sempre in vantaggio noi ragazzi scusate se non ho parlato ok la principessa farà danni pochi dottore ha fatto invece tanti danni golem del ghiaccio non dire che fa il giro no ragazzi la prima volta che ci riesco a fare fare il giro alle truppe ok il giro fessa già il colpo ok un altro colpo voilà ok torre 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 oh siamo messi nella cacchetta oh cavolo colpito il gol e colpito il gol bravi fatti fuori tutti la scarica fa quanto fa ok 50 tutti quindi basta solo un colpo di domenica fatti ok 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 ragazzi doppio princess è in vantaggio l'unico solo per fuoco oh cavolo 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 c'è Fail non pensi can c'è c'è carolf Bible collagen di ottene lic faremo i partiti due contro due non voglio perdere troppi trofei ufficiale quest'attore sono livello 8 perché princess barbari a i i i i i i i i i ok scusate se sono stato avuto per un momento è che ho concentrato con lo studio ragazzi si farà molto male barbari scelte ammazzate con l'estremolo ditta scarica pronta ok sfera golem tom stone bravi ok princess barbari buono la scintilla chi se lo sarebbe rispettato ragazzi buon torre scarica pronta ok non serve la scarica torre fatta direi che questa non vi facciamo ma il deck spawn quindi solo difficile funziona tantissimo con il deck normale perché l'altro genera l'isir genera tutto invece l'altro difende mentre lo difende quello ha cominciato a girare cioè generare tante robe fino a formare anche lui l'attacco dell'ostante così dopo gli edifici ma boh lo sappiamo già che servono anche in difesa quindi praticamente può essere imbattibile ma scusate perché ho fatto un'altra partita tronca tardi ciao 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 ciao